Raga, ma che bomba hanno sganciato questa notte. Sapevamo già dell'esistenza di un terzo film di Deadpool, sapevamo anche il regista Sean Levy che è il regista di Free Guy, ma ne hanno parlato ufficialmente al 100% solo questa notte, con un video di Ryan Reynolds, rilasciato su tutti i social naturalmente, in cui intanto si scusa, giocosamente, di essere mancato al D23 per un annuncio di Deadpool, dice che è stato molto impegnato per questo film, per cercare qualcosa di nuovo, qualcosa di speciale per il benvenuto di Deadpool nell'MCU, perché ogni Deadpool deve essere speciale a modo suo, diverso dagli altri. Non è riuscito nell'impresa, come dice nel video, non ha avuto delle idee interessanti e quindi è andato a puntare su quello che funziona solamente negli ultimi periodi, ovvero il fanservice. Infatti, dietro di lui, compare, così, che si fa i cavoli suoi, Hugh Jackman, e Ryan Reynolds gli chiede, Ehi, Hugh, ti andrebbe di tornare ancora una volta nel ruolo di Wolverine? E lui... Ora che abbiamo la conferma, posso dirvi che sto esplodendo. Questo sarà un video cortissimo, davvero non ho molto da dire, se non hype per questo film, e soprattutto quanto è bello il logo. Non ero sveglio al momento dell'annuncio, quindi l'ho visto solamente questa mattina, e appena sveglio ho preso il telefono, ho guardato queste notifiche, che vedevano la dicitura Deadpool 3. Ok, vabbè, avranno detto qualcosa di poco importante su Deadpool 3, magari uno sceneggiatore in più, cose del genere, poi ho visto questo logo. Ah, ok, hanno confermato il logo, va bene. E se mi seguite sapete che io tengo gli occhiali solitamente, quindi ho aguzzato un po' lo sguardo, appena sveglio, ma... E non sto scherzando, ho iniziato la giornata con questa faccia da ebete. Abbiamo anche una data, sarà il 6 settembre 2024, ne abbiamo ancora tanto da aspettare, e a quanto pare sarà il primo film della fase 6, l'ultima fase della multiverse saga. Se lo vogliono inserire nella timeline, sarà anche precedente a Fantastici 4, quindi avremo di conseguenza Deadpool 3, o sottotitolo che inseriranno poi, ancora non ce l'hanno rivelato, e poi Fantastici 4. E per concludere, in bellezza la fase avremo poi Kang Dynasty e Secret Wars, dove a questo punto penso comparirà anche Deadpool. Ma parliamo un po' di Hugh Jackman e di Wolverine, perché per quanto mi riguarda è abbastanza confermato che questa sarà l'ultima volta che lo vedremo nel ruolo, perché se non sapete lui ha un problema alla pelle, ha un tumore alla pelle che non gli permette di pomparsi, diciamo, di lavorare sul suo corpo per arrivare alla stazza utile per Wolverine, quindi penso che quella che vedremo in Deadpool 3 sarà l'ultima comparsa di Hugh Jackman nel ruolo dell'artigliato canadese. Ma a me sinceramente va bene, magari non sarà nemmeno un personaggio importantissimo, farà una comparsa, un cameo, ma già mi basta, sinceramente. Poi è arrivato anche John Krasinski a ritwittare il video di Ryan Reynolds chiedendogli Ma questo è il nostro film? Molti hanno interpretato questa cosa come Oddio, nel film ci sarà anche Reed Richards, sarà interpretato da John Krasinski, confermato lui come Mr. Fantastic? Per quanto mi riguarda questo era solo un occhiolino da parte di John Krasinski, pensato naturalmente per far pensare a I Fantastici 4, ma la scusa ufficiale sarà quella di un rimando al film If, che è un film che arriverà nel 2024, se non sbaglio a novembre, diretto da John Krasinski e nel cast avremo anche Ryan Reynolds. Tralasciando che ci sarà anche Steve Carell, e per quanto mi riguarda, da fan di The Office non potrei essere così tanto contento di rivedere John Krasinski e Steve Carell lavorare di nuovo assieme. Quindi no, non credo che nel film comparirà Reed Richards, non credo nemmeno sfortunatamente che John Krasinski interpreterà il personaggio nel film dei Fantastici 4, e non credo neanche che sarà un film Deadpool uccide la Marvel, come molti stanno dicendo nell'ultimo periodo, perché potrebbe rivelarsi abbastanza difficile da portare in sala un film del genere, perché sì, magari potrebbe essere un altro universo, sicuramente sarà un altro universo, non ci possiamo aspettare un Deadpool che uccide lo Spider-Man di Tom Holland, l'ulk di Mark Ruffalo, che non succederà mai una cosa del genere. Sempre se ci sarà l'ulk di Mark Ruffalo, visto che probabilmente arriverà ad essere uno dei villain di Captain America New World Order. Comunque no, Deadpool uccide la Marvel la vedo molto molto difficile. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Aspettate il film, arriverà il 6 settembre 2024, l'ho già detto nel video, ma lo ripeto. Vi ricordo che in descrizione, se volete supportarmi, ci sono i link importanti tra i miei social e i link di Pampling, codice ilpensiero4 per avere un paio di calze gratis a scelta. Ci sono tantissime t-shirt, tantissimi design su calze, poster, cover, chi più ne ha più ne metta davvero tantissima roba, e se userete il mio codice avrete un paio di calze e supporterete il canale. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!